I carabinieri della compagnia di Misilmeri hanno tratto in arresto un diciottenne del luogo già noto alle forze dell'ordine per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Il giovane dopo essere scappato da una comunità in provincia di Palermo dove era affidato in prova ai servizi sociali ha rubato un'autovettura e si è dato alla fuga in autostrada in direzione Misilmeri guidando a elevata velocità e mettendo in serio pericolo l'incolumità degli altri automobilisti. I militari dell'arma sono riusciti a raggiungerlo dopo un lungo inseguimento protrattosi anche per le vie interne di Misilmeri durante il quale il fuggitivo ha danneggiato numerose autovetture parcheggiate. Il giovane che ha anche speronato l'auto di servizio dei carabinieri è stato altresì denunciato in stato di libertà alla procura della repubblica presso il tribunale di Palermo per lesioni personali e danneggiamento aggravato. L'autovettura rubata è stata restituita al legittimo proprietario. L'arresto è stato convalidato dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Termini Merese che ha disposto per l'indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.